Come hai trovato casa? In ordine Un bijou Non riesco a parlare ma Ti hai fatto male alla lingua povera Ma che sfiga amore Incredibile ma vero Meglio tardi che mai eccetera eccetera Ma abbiamo prenotato la nostra vacanza in Sicilia Yuhuu Quindi si parte Andiamo in inizio agosto Ci facciamo qualche giorno giù Amore l'itinerario chiediamo consiglio Sai tu? Dai chiediamo il consiglio che ci danno Conoscete qualche posto carino Ovviamente ci sarà anche Kino Andiamo con l'aereo Quindi ci facciamo un bel tour Cioè abbiamo prenotato solo il volo Il resto andiamo a braccio Come capita Come che è bellissimo Andare a braccio è stupendo L'organizzazione è sempre nell'ultimo punto Amore abbraccio si va così Buongiorno 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 Vi lascio anche un codice sconto Che sarà valido fino al 30 settembre Del 15% Ve lo scrivo qui Buongiorno